la chiave del fushi oh e la ruttani mamma la ruttani mamma la troia bastarda e bastarda nel culo e volevo dire questa anziana antipatica ue guai benvenuti in questo nuovo video su grainy oggi ci sarà davvero da bestemmiare tutti i gesuristi che esistono come avete letto questo video che è più 18 se questa vecchia di merda mi fa cadare sotto c'è un po' il piano del tempo dove stanno chiamiamo dove cazzo sta dovrebbe andare dietro sta puttando ah guarda ma come l'azzo è tutto dentro da più con i terrenzi ah no posso andare sotto a me vediamo che cosa è lento e la mia 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 ho sempre paura di giocare a questi giochi perchè sembra un gioco orro però io a grande gioco da molti anni diciamo sono scappato più di mille volte se volete un video fate questo video perchè a parte sarebbe un po scomodo perchè tipo un video durerebbe tipo un'ora forse meglio una live io ho qui le live su youtube su questi giochi ma li posso fare per adesso e guarda sta cessa a fare i messi a giochi e frutti a perchè no se non faccio così questo punto non se ne va mai non si può calare diciamo quanto hai ragione che è sempre messo a mente è sempre tirato diciamo che così via che è bello questo è il momento in cui non ho capito meno da che è il momento in cui non ho capito ma non ho capito c'è la nostra mediella è un consiglio è tutto il passato il passato guarda mi basta, attenta, mi arrivi nel c***o, non mi prendi la macchina eh, volevo dire, questa anziana, antipatica, così mamma mia, ragazzi, mamma mia dobbiamo stare attenti per lei, troppo lei che mi ha costato la troia lei troppo lei sa troie di lei, ok, non so se mi spaglio il libro l'ho visto, non mi ricordo dove l'ho visto, porca, porco di amico una volta scappai pure con la macchina, se mi spaglio solo due volte però, con la macchina invece con la porta tipo, un po' così, però è da anni che, da un annetto che non gioco, vabbè, a parte il video che feci, il video del ragno, fa due video che sono usciti sul canale che cosa, ah, capito io, perché sto in bagno, capito io chi mi vuole sempre capire, un po' così, che dovremmo aprire qui non è incredibile, se questo troia abbastanza, abbastanza delle abbastanza ok, mettiamo, ma forse è molto comodo se troverebbero, eh, vabbè, c'è spesso dove sto, so, è chiamato ok mamma mamma ti fai giù allora no il napoletano ok ok youtube non viste di nada un po' di mamma ok non metto E' uno due, ok, questa troia da dove viene? Dai la mia, dai la mamma Dai la mamma Ehi Ehi,". Ehi. Ehi. Martin. Ehi. 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 Ok si no e e e e e no e e e i Grazie a tutti 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 Ok Grazie a tutti